Sono passati appena cinque giorni dal mio viaggio in Tunisia. Noi siamo già riusciti a ottenere un importante risultato oggi, sul quale davvero voglio ringraziare tutto. È anche frutto del lavoro diplomatico fatto dal Governo italiano. Chiaramente ne sono lieta. Siamo molto contenti di questa dichiarazione congiunta firmata tra Unione Europea e Tunisia. È un primo passo importante verso la creazione di un vero e proprio parternariato con l'Unione Europea che possa affrontare in maniera integrata tanto la crisi migratoria quanto il tema, ovviamente, dello sviluppo per entrambe le sponde del Mediterraneo. Noi abbiamo un'importante finestra di opportunità da qui alla fine del mese, data nella quale si svolgerà il Consiglio europeo, e vogliamo continuare a lavorare tutti sodo per arrivare in quella data con un memorandum già siglato tra Unione Europea e Tunisia. E a seguito di questo Roma e l'Italia saranno pronte a organizzare la conferenza internazionale sulla migrazione e lo sviluppo, della quale abbiamo parlato con il Presidente Sayed, che è un'ulteriore tappa di questo percorso. Chiaramente questo lavoro è anche propedeutico a riuscire a fare passi avanti nell'importante accordo tra la Tunisia e il Fondo Monetario Internazionale. Quindi grazie davvero alla Presidente von der Leyen, Grazie al collega Mark Ruth, credo che questa immagine oggi sia un'immagine che rende molto bene l'idea di quanto siamo impegnati a dare una risposta ai nostri vicini tunisini. Grazie.